Un sorriso non ha prezzo, donarlo non costa niente, ma riceverlo può significare tantissimo. Lo sanno bene i molti volontari che operano come clown per portare sollievo dove si soffre e che hanno fatto festa in Piazzotto a Montevecchio per la gioia di grandi e piccini. Siamo sulla frequenza giusta? Siamo sulla frequenza giusta. Ma voi cosa fate? Come che portate allegria e dove la portate? Dappertutto. Dove regni uno stato di disagio noi ci siamo. Quindi ospedali, case di riposo, comunità e perché no? Le piazze. Perché non è detto che qui non regni uno stato di disagio. Quanto c'è bisogno di sorridere o di ridere? Di sorridere tantissimo, di ridere di più. Per cui abbiamo bisogno tutti i giorni, dal momento in cui ti alzi e dal momento in cui vai a letto, è sempre meglio andare a letto con un sorriso, anche perché abbiamo solo da guadagnarci. C'è un episodio in particolare che l'hai inorgoglita? Nel senso che qui abbiamo veramente dato una mano a qualcuno. Penso che di episodi ce ne siano a migliaia, perché anche dove non pensi stai dando, guarda, in questo momento io sto dando una mano a lui, ma la diamo a tantissime persone.